pomeriggio 5 voci mediaset si deve chiudere mirta merlino come facciamo la giornalista ed ex volto di la sette già pronta a partire d'agostia sussurra che ai piani alti di colonio monzese si dice che byv m pubblicato su 3 ottobre 2023 voci di chiusura anticipata circolano a proposito di pomeriggio 5 a guida mirta merlino a lanciare l'indiscrezione ed agostia che spiffera che ci sarebbero dei sussurri nei corridoi mediaset che recitano così come facciamo a chiudere il programma il portale diretto da roberto d'agostino spiega poi che le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari d'agostia non aggiunge i motivi di tali presunte voci probabile che possano casomai circolino realmente essere legate agli ascolti non entusiasmanti del talk show che perde sempre contro il competitor di rai 1 vale a dire la vita indiretta a onor del vero anche lo scorso anno alberto matano ha trionfato costantemente su barbata d'urso c'è però da dire che la merlino è stata ruolata almeno per eguagliare barbarella nelle aspettative più rose e per fare meglio di lei e invece la nuova versione di pomeriggio 5 stenta a decollare la prima parte della trasmissione oscilla tra il 17 diciottesimi di per cento di share la seconda scende drasticamente intorno al 12 quattordicesimi di per cento e c'è un motivo se la prima parte va meglio canale 5 rispetto allo scorso anno ha anticipato la messa in onda di ben mezz'ora dalle 17.25 alle 16.55 così da avere un vantaggio sulla vita indiretta che comincia dieci minuti dopo e così da poter sfruttare l'ottimo traino della fiction la promessa